La scorsa notte il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto decreto Ristori Bis, 2,5 miliardi di nuovi aiuti a sostegno di lavoratori e imprese decisi dopo le nuove restrizioni per il coronavirus in vigore dal 6 novembre. Il provvedimento estende l'accesso ai benefici dei contributi a fondo perduto a categorie escluse dal precedente, incluse anche la ristorazione senza somministrazione come rosticcerie e pizzerie al taglio e gli internet point che avranno un ristoro al 50% di quanto già avuto in estate. La nuova lista dei nuovi codici a teco allargata al provvedimento include negozi dall'abbigliamento alle elettrodomestici fino ai sexy shop, gli ambulanti visto che anche i mercati sono chiusi, gli estetisti e gli altri servizi alla persona compresi chi fa piercing e tatuaggi. Nella lista anche servizi per animali, canili, dog sitter, tolettature e le agenzie matrimoniali. Il decreto rafforza ulteriormente i contributi per alcune delle attività delle zone rosse e quindi costrette alla chiusura. In particolare gli indennizi parseranno dal 150 al 200% per bar, pasticcerie e gelaterie che si trovano in zone rosse o arancioni. Sempre a beneficio delle imprese costrette a fermarsi il decreto sospende il versamento dei contributi per due mesi a novembre e dicembre. I contributi sospesi andranno avanti senza sanzioni e interessi. Entro il 16 marzo in un'unica soluzione o in quattro rate mensili a partire da quella rata. Previsto un bonus babysitter da 1000 euro destinato però ai soli lavoratori autonomi e nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile. Il congedo straordinario con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti. Sale la dotazione del fondo previsto per il trasporto pubblico locale incrementata di 300 milioni di euro per il 2021 fino a 100 milioni di euro potranno essere usati per servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti sempre nel 2021 per far fronte alle misure anti covid. Arriva infine un fondo ad hoc con una dotazione di 200 milioni per garantire contributi a fondo perduto agli operatori con sede operativa nei sedentri commerciali a coloro che operano nelle produzioni industriali del comparto alimentare delle bevande.